Le sirene delle ambulanze della misericordia, una corona di fiori e il raccoglimento. Alle 19.34 di ieri Avellino e le sue massime autorità civili e militari si sono fermate per commemorare le vittime del terremoto dell'80. Non devono più essere commessi gli errori che hanno segnato l'epoca post-sisma, ammonisce il sindaco Festa. Ecco perché la mia amministrazione passerà la storia come quella che cancellerà i buchi neri dallo skyline cittadino. Il problema della ricostruzione dei buchi neri è stato rappresentato dalla mancata volontà da parte della politica di agire in danno sui privati. Questa amministrazione ha dimostrato di non avere nessun dovere, nessun debito da pagare con alcuno, quindi potrà tranquillamente, approvando chiaramente strumenti urbanistici che ci possano consentire anche di espropriare un bene e anche di abbatterlo, questa amministrazione sarà quella che oltre ad averlo annunciato lo farà. Ma in tutta l'Irpinia quella di ieri è stata una giornata particolare in cui era doveroso ricordare ma anche guardare oltre. A Teora, uno dei paesi del cratere del sisma, la priorità ora è contrastare lo spopolamento e superare anni di industrializzazione scriteriata. Lo scandalo se lo devono pagliare i settentrionali perché sono scesi qui a aprire le fabbriche, dopo, poco dopo, pigliarsi i macchinari e portarsi al nord di nuovo e lasciarci qua tutti quegli operai, tutti senza lavoro. L'Irpinia e la nazione ebbero la forza di rialzarsi, sottolinea in un videomessaggio il Premier Conte. Oggi siamo chiamati a fare lo stesso contro il Covid. Ecco, allora che l'esempio che arriva dal passato deve incoraggiarci ancora di più nell'affrontare il nostro presente, segnato dalla lotta a questa terribile pandemia.